Ora a parlare di governo e del caso Fiat con Massimo Bitonci, capogruppo della Lega Nord al Senato. Senatore, la riforma Fornero bisogna modificarla urgentemente, per questo motivo che cosa chiede le parti sociali? Bisogna che questa riforma venga modificata velocemente, il problema che è emerso è quello che la riforma Fornero ha bloccato in maniera estremamente evidente l'assunzione dei giovani, quindi quella flessibilità che deve esserci. In un momento di crisi economica come la nostra c'è bisogno del contrario, purtroppo i nostri imprenditori non assumono perché si vedono costretti ad assumere giovani oppure persone che sono anche disoccupate o in difficoltà con dei contratti che sono estremamente rigidi e faraginosi. In realtà questo non dovrebbe avvenire e negli altri paesi europei dove ci sono sistemi di assunzione molto più veloci e flessibili la situazione è ben diversa dalla nostra. Per quanto riguarda invece la Fiat è intervenuto e che cosa ha chiesto? No, è notizia proprio di questi giorni, dello spostamento della sede legale di una società che fa capo alla Fiat. Questo porterà una diminuzione importante delle entrate del fisco italiano. Allora noi ci chiediamo con tutti i contributi, con tutta la cassa integrazione che è stata pagata, con gli incentivi che sono stati creati ad hoc e pagati da tutti i cittadini. Io ne ho comunicato con una battuta, insomma ho detto probabilmente ogni famiglia è proprietaria di minimo di una gomma o di una parte o di una porzione delle fabbriche, delle attività della Fiat. Con tutto quello che ha contribuito lo Stato italiano io penso che questa mossa di spostare la sede in Inghilterra per pagare una percentuale più bassa di tassazione, il 20%, logicamente ci deve far riflettere su quella che è la tassazione italiana che è molto alta, però è anche vero che in caso di questo tipo a Marchion dovrebbe capire che soprattutto in un momento di difficoltà e di crisi come questa c'è bisogno di essere più uniti e se bisogna versare le tasse di versarle allo Stato italiano.